Una casettana ancora non in palla, però nella ripresa con le riserve qualcosa di buono si è visto? No, ma penso anche nel primo tempo. Siccome domenica abbiamo questo problema dell'esterno a sinistra e dell'esterno testo di conseguenza, ho cercato di provare qualcosa per vedere qualche soluzione per domenica. Siamo in fase sperimentale, lo sapevamo che poi abbiamo incontrato una buona squadra. Ci hanno messo tanta grinda, tanta voglia per fare bene. Purtroppo le amichevole sono queste. Primo tempo in campo con un 4-4-2 con gli esterni larghi. Nella ripresa abbiamo visto anche Sposito come mezzapunta, che qualcosa di buono ha fatto vedere. Lei ha ancora in mente uno schema fisso o è una casettana che può variare a seconda della situazione in campo? No, può variare sicuramente come abbiamo variato domenica. Ho giocatori che mi possono permettere di cambiare modulo anche in corsa. È normale che la condizione fisica, Emanuele è uno di quelli che sta un po' più indietro nella condizione, però è un giocatore che sicuramente sarà utile durante tutto l'arco del campionato. In difesa c'è ancora qualcosa da rivedere perché si stanno alternando molti giovani perché la società è ancora alla ricerca di due terzini. In pratica l'assetto è ben definito con il portiere terzini under e poi in mezzo al campo sarà la domenica a decidere poi chi è il più in forma a scendere nel rettangolo di gioco. Sì, è proprio questo il gap maggiore che dobbiamo colmare perché con la partenza di ritardo alla fine prendendo giocatori bravi tu riesci a sopperire alla partenza di ritardo. Dal punto di vista fisico è lo stesso discorso, con giocatori bravi riesci a sopperire con la gestione della gara. Quello che poi diventa più difficile è la scelta degli under perché purtroppo quando parti in ritardo diciamo che più o meno i migliori sono stati scelti però noi non ci lamentiamo, abbiamo scelto degli ultimi under. Bisogna lavorarci, è normale perché sono giovani che vengono da campionati di beretti, di primavera, è normale che ci devi lavorare vicino. La piazza è importante, sentono anche loro la pressione della piazza e noi dobbiamo cercare di non fargliela sentire più di tanto. Oggi un amichevole, c'erano molti tifosi della Casertana che sono di qui a vedere la squadra. Domenica al primo impegno casalingo, un appello ai tifosi e cosa si aspetta dalla città e poi dalla squadra domenica? Una dimostrazione di quello che l'ha già notato domenica, accorrendo non so quanti erano ma sicuramente più di 2000 in una partita di Coppa Italia in piena estate. Domenica è la prima di campionata, è il nostro vero obiettivo, gli dico soltanto di starci vicino come stanno facendo fino a questo momento e come hanno sempre fatto. Perché la Casertana rappresenta Caserta, la Casertana è dei Casertani, non è di Mario Di Nolo, né della società, né dei dirigenti. Questi qua passano, la Casertana resta. Perciò gli dico di starci vicino e di stare vicino a questa maglia.